ed eccoci qui cari amici dj daniel sistemato il microfono sistemate le luci secondo video continuo con i consigli non metto musica effetti se vi va mi seguite se non mi va non mi seguite indifferente tantino di tipo le trovo uguale anzi anche meglio se non seguite mi chiamo dj daniel baccaglio serialmente da anni è qualcosa con vino non sono bello non sono intelligente guardate che faccia sembro pazzo lo sono però 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 durante le mie trattative telematiche ho affinato una certa particolarità riesco ad agganciarle ovviamente non sempre può andare bene parliamo con i consigli pratici allora sicuramente siete iscritti sui siti di incontri non faccio i nomi ovviamente cosa dovete fare scrivete delle frasi tante tante di tutti i tipi possibili immaginabili un'esperienza vi verrà naturale vi verrà dei consigli e le mettete lì copie incolle che siano diverse che siano vostre che non siano copiate che non siano incollate che non siano recuperate usate la testa la testa la testa e il ragionamento perché voi dovete colpirle come un missile sempre educazione niente parolace niente minchiate però non li dovete dire come sei bel ciao bel che lavoro fa cosa non fa perché a loro non gliene fotte una fava quindi le colpite e loro rispondono perché reagiscono soprattutto se le pizzicate perché da fastidio da fastidio vi faccio un esempio bella foto dj daniel bella foto bella tipa bella situazione a ballare e voi commentate non come gli altri la vedete invece dire che bella e sei carina guarda quel vestito inguardabile tu ancora ancora però non puoi mostrarti così le risponde sicuro matematico c'è niente da fare più fuori come una calamita sono attratte dalla dal lago dal lago della ripicca dalla risposta secca e voi li dovete reagire finito il video dice grazie